Mariano Catanzaro infiamma il trono classico, anticipazioni bollenti l'interesse di Mariano Catanzaro per Federica Pattacini, non appena ha fatto il suo ingresso nello studio di uomini e donne è stato. Più che cristallino è ora la corteggiatrice da cui il tronista è particolarmente a tratto pare aver segnato un punto fondamentale nella gara chi conquisterà prima il suo cuore. Secondo le ultimissime anticipazioni di uomini e donne relative alla puntata del trono classico, Mariano Catanzaro, durante l'esterna con Federica, ha portato la conoscenza a un livello superiore. Dina Cipollari, infatti, ha commentato la clip della passeggiata tra la bella corteggiatrice e Mariano lasciandosi andare a esternazioni più che entusiastiche sulla deriva bollente che ha preso. Catanzaro e Federica si sono scambiati quello che la storica opinionista ha definito il bacio più lungo della storia di uomini e donne. Male, invece, le esterne con Monique e Ida. Della brasiliana il napoletano, al centro la settimana scorsa di sospetti legami con una fantomatica agenzia di casting, ha apprezzatola quando balla, ma in studio ha dichiarato di vedere in lei una persona furba e manipolatrice. Anche con Ida la scintilla non è scattata tanto da rivelare di essere convinto di volerla perché non trova affinità con la ragazza. Dal canto suo Ida ha fatto sapere di non credere alla sua versione e di essere altresì sicura che Mariano vuole mandarla via perché è l'unica corteggiatrice a tenergli testa. Appuntamento con la focosa puntata del trono classico di Uda.